Filosofia e scienza che spesso vengono contrapposte anche quando si pensa agli studi. Io metto insieme dati di scienziati diversi per trovare delle spiegazioni all'evoluzione, cioè al nostro passato. Si sente dire che il virus muta per aggirare il vaccino, quindi attribuendo al virus una sorta di intenzionalità che non ha alcun fondamento. I virus sono delle macchine biologiche quasi perfette purtroppo, sono estremamente efficienti, fanno una sola cosa nella vita, fare copie di se stesse, utilizzando le cellule degli altri come veicoli di diffusione. Sono molto più antichi di noi. Fate conto che noi esseri umani siamo su questo pianeta da circa 200 millenni, che è niente dal punto di vista evolutivo. Un coronavirus come quello che ci ha colpito questa volta è in giro su questo pianeta da 3 miliardi di anni.